Suicide Squad Reale Pogadidad si sfida nell'ottava giornata della Champions Cup Over 35 della T-League Subito avanti con questo tiro sulla traversa Suicide Squad vicinissimo al vantaggio Ancora suicide Squad con questo tiro alto sopra la traversa Ancora suicide Squad con questo tiro rispinto dal portiere L'azione però non è ancora finita ancora in avanti Suicide Squad con questo tiro vicinissimo al vantaggio Suicide Squad risponde il Reale Pogadidad con questo inserimento Il tiro è che va vicinissimo alla rete E poi con questo tiro parato dal portiere suicide Squad Secondo tempo si apre con questo tiro al volo Lampis porta in vantaggio il Suicide Squad Prova a rispondere con questo tiro il Reale Pogadidad il pareggio In avanti ancora il Suicide Squad che proverà doppio Anche in avanti il Reale Pogadidad partita intensa Attenzione Il tiro Alto sopra la traversa Reale Pogadidad che prova il pareggio Ancora in avanti il Suicide Squad che troverà doppio Il 2 a 0 A opera di lieto 2 a 0 suicide Squad E poi Alla fine C'è il 3 a 0 Dio Zanna finisce 3 a 0 suicide Squad Alla fine 3 a 0 6 a 0 E poi Està pumping B sat